Amici 22, lacrime e disperazione, è successo nella casetta. Momenti emozionanti nel day time di amici. Durante la scorsa puntata sono stati eliminati due allievi Piccolo G e Gianmarco Petrelli. I due sono tornati in casetta per salutare i loro amici. Il primo ad aver dovuto abbandonare il talent è stato Piccolo G. Cantautore della squadra di Rudizio Arbi e Alessandra Celentano. Essendo stato eliminato durante la prima manche. Il giovane non ha potuto incontrare per l'ultima volta i suoi coinquiline e, soprattutto, Federica, la sua ragazza. Chiara Ferragni vola in Africa con Chiara Biasi, hanno perso le nostre valigie. Cosa è successo? Michelle Unzichere il sesso da ex con Eros, la conduttrice chiarisce, ha creato tensioni, ma non sono così pirla. Piccolo, però, ha voluto salutare comunque la fidanzata in una maniera particolare, lasciandole sul letto il suo zainetto. Diventato ormai compagno fedele durante il programma. E questo gesto ha sciolto Federica che non è riuscita a trattenere le lacrime e ha raggiunto commosse agli altri compagni. Era vuoto? Ora sei costretta a usarlo ha detto Angelina la collega, che è scoppiata nuovamente a piangere. L'altro eliminato dalla puntata è stato il ballerino di pap Gianmarco Petrelli. Nonostante ciò, però, l'allievo di Alessandra Celentano ha ricevuto una bellissima sorpresa. Il giovane, infatti, ha vinto una borsa di studio a New York, per studiare tre settimane in una delle accademie più prestigiose di danza moderna. La Joffrey Ballet School. Proprio come la fidanzata Megan, eliminata nella scorsa puntata. Gianmarco potrà volare negli Stati Uniti e stare a contatto con alcuni dei coreografi più conosciuti al mondo. Maria De Filippi, però, ha subito precisato che non ha detto che i due possano andare nella Grande Mela nello stesso periodo e la sua risposta è stata, vorrà dire che ci andrò due volte. Dopo l'annuncio dell'eliminazione di Gianmarco tutti i ragazzi sono scoppiati in lacrime. In particolare Isabel, Ramon, Aaron e Cricca. Proprio con quest'ultimo si è scontrato nel ballottaggio finale. Persino Wax, con cui il ballerino aveva avuto dissapori, è rimasto molto colpito e ha voluto isolarsi in camera per cercare di riprendersi. Io scriu rime pentru mine, pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, parasiții, dragonul maxi, gespe. Chimie, Rimaru, Spike, Puia, Sishuapo, grasul nimeni altul de LVD sau Carbo. Tre' să vă mănânci verzi cu verzi, card intens, tre' să crezi, crezi ce vrei să crezi. Eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bar cu bossul.